La madre ebbe la rottura delle membrane. Sarebbe stata impossibile per la nascitura di uscire a vivere e a nascere. Il ginecologo invitò la mamma a pregare Paolo VI e così fece Vanna Pironato, che con il marito si rivolse al Papa che 50 anni fa pubblicò l'Umane Vite. Il miracolo riconosciuto per la canonizzazione è avvenuto proprio nel Veronese, a Villa Bartolomea. Come viene vissuto questo dalla vostra comunità? Subito sorpresa, stupore, quasi incredulità. Passato del tempo abbiamo dovuto in qualche modo renderci conto di questo regalo. Ci siamo raccolti momenti di preghiera in chiesa, abbiamo chiamato la famiglia a dare qualche testimonianza per comprendere un po' il fatto. Appunto eravamo tutti stupiti. E poi abbiamo organizzato dei momenti anche di approfondimento con loro, con il nostro Vescovo, con qualche teologo, appunto per penetrare meglio questo mistero, questo dono, questa cosa che ci supera tutti. È un messaggio che colpisce in un periodo storico in cui la vita umana e quella dei nascituri, in tanti casi, viene considerata come cultura dello scarto. un bel dono per tutta la comunità di Villa Bartolomea, una cinquantina i parrocchiani presenti alla canonizzazione a Roma, partiti questo venerdì pomeriggio. Colpisce vedere che il Papa dell'Umane Vite ha voluto regalare per sua intercessione proprio la vita a una creatura che stava per nascere. Sì, i genitori si sono affidati a Paolo VI anche in considerazione dell'Umane Vite. Hanno voluto conoscere questa enciclica, approfondirla un momentino, e ogni volta che danno la testimonianza parlano dell'Umane Vite. Il Papa, che è stato a favore della vita, nonostante tutti gli ostacoli, tutte le avversità che ha dovuto subire, loro stanno parlando molto dell'Umane Vite, proprio il Papa che favorisce la vita. È bello vedere che adesso questa bambina è testimone di un miracolo, proprio in un momento in cui la vita nascente è in difficoltà, per tante opinioni anche contrarie che ci sono. Sì, tanto che il Papa e la mamma continuano ad affermare che priorità su tutto c'è sempre la vita, la vita del più piccolo, la vita del più debo, del nascituro. E lo affermano loro proprio in tutti i momenti. E noi abbiamo avuto da loro una grande lezione, riconsiderare la vita oggi che appunto viene così tanto mortificata, tralasciata, ecco, non favorita, senz'altro.